Uno dei due si sposa? Si sposerà lui o si sposerà lui? Tiro lancio la monetina ma secondo me si sposa lui Ciao carissimo, carissimo Mettiamoci di qua che ci sono tante bellissime ragazze Vieni vieni seguimi seguimi Ecco qua No non ci credo perché guarda Fammi la zoomata Tutti hanno la maglietta blu e lui no No perché lui lo so già E' un diverso E invece tu ce l'hai gialla perché secondo me il giallo mostra qualcosa di strano Qualcosa si qualcosa Ciao come ti chiami? Importante Paolo Paolo ti sposi? Si Ma i tuoi amici sono contenti? Guarda guarda è la pasta della pensiero E poi è che li sposa lui non noi Bello Allora a te hanno dato il problema giusto? A te hanno dato il problema Ti sposi? Loro se ne lavano le mani Guarda la faccia guarda Guarda la mia invece Ma è arrabbiatissimo Con chi ti sposi? Clarissa Clarissa E tu ma da dove arrivi? Da Reggio Emilia Reggio Emilia E anche lei? Eh? Sì Quando ti sposi? Agosto Agosto Senti stasera hai fatto un fioretto? Si Cosa non dovrai fare stasera? Stasera mangio con loro e basta E basta Oh Clarissa Clarissa lo controlliamo noi Non farà assolutamente niente Solo si divertirà con gli amici Bravo bravissimo Tranquilla tranquilla vero? Me lo fai un saluto a Clarissa? Ciao Clarissa Me lo dici in dialetto della vostra lingua? Dai Di un del vostro dialetto Clarissa Sei doma cao È uguale È uguale Allora un saluto da DG Carlone Ciao Paolo Ciao Ciao